Musica Edizione della notte del nostro telegiornale, bentrovati in apertura. Torniamo a parlare della situazione della gamma. Il Consiglio regionale è riunito in seduta straordinaria, ha approvato all'unanimità una proposta di legge di tutela dei lavoratori. Sentiamo i particolari da Anna Maria Di Matteo. Una legge di quattro articoli con cui il Consiglio regionale all'unanimità ha deciso di intervenire a sostegno dei lavoratori della gamma per i quali lo scorso 4 novembre sono scaduti gli ammortizzatori sociali. Ed era proprio questo l'aspetto che maggiormente li preoccupa perché nel frattempo è partito il percorso della nuova gestione della filiera vicola. Nel frattempo andava affrontato il problema del sostegno a reddito per i quasi 300 lavoratori rimasti senza occupazione ormai da tre anni. E ieri nel corso della seduta del Consiglio, una seduta straordinaria, l'Aula ha trovato l'accordo predisponendo un testo di legge che è stato sottoscritto da tutti i consiglieri presenti, sia di maggioranza che di opposizione. In sostanza la Regione autorizza la finanziaria regionale, la Filmolise, a farsi garante per un importo massimo di 1.500.000 euro nel caso in cui il Ministero del Lavoro non dovesse concedere la proroga di un anno della cassa integrazione straordinaria. L'eventuale sborso, è scritto nella legge, non graverà sulle casse regionali, ma sarà carico del fondo di garanzia alle imprese, gestito sempre dalla Filmolise. La richiesta degli ammortizzatori sociali intanto è stata già inoltrata, dunque c'è attesa per la decisione che adotterà il Ministero. L'approvazione della proposta di legge è arrivata al termine di un lungo pomeriggio ad assistere ai lavori una nutrita delegazione di lavoratori della GAM che avevano annunciato il presidio permanente. Nel frattempo, in commissione, le forze politiche trovavano la quadra sull'impostazione del provvedimento. La votazione in tarda serata. Una votazione salutata con soddisfazione dal Governatore che ha parlato di una importante espressione di concretezza e attenzione nei confronti dei lavoratori da parte del Consiglio. Noi avevamo chiesto che la Regione si facesse garante dei lavoratori che, va ricordato, non sono la causa dei fallimenti ma sono le vittime. Bene ha fatto dunque la Regione. Non aveva altra scelta. Ha commentato Serafica Tecla Boccardo, segretaria regionale della UIL. Il clima intanto è quello di attesa. Attesa degli eventi è di capire come si muoverà ora la Regione. Cambiamo argomento verso una soluzione positiva. All'avvertenza di esattorie SPA è in via di definizione, infatti, un accordo per la riassunzione di parte del personale grazie all'affidamento dei servizi di riscossione che è stato deciso dal Comune di Isernia. Enzo Di Gaetano. Verso una soluzione positiva all'avvertenza dei dipendenti delle ex esattorie SPA. Infatti, dopo l'erevoca della delibera del Comune di Isernia che aveva indetto un nuovo appalto per il servizio di riscossione ma senza alcuna forma di protezione per gli ex lavoratori dell'azienda, si sta arrivando in questi giorni all'adesione al Consorzio Temporaneo di Imprese ICA Creset che, al contrario, aveva garantito da subito la riassunzione di parte del personale e a giorni sicuramente entro fine mese da Pollonio potrebbe anche arrivare alla sigla del contratto di concessione alla ICA Creset dei servizi di riscossione del Comune. Le riassunzioni, che potrebbero arrivare subito, ma è un dato da confermare, sarebbero una decina. La storia va avanti da giugno e da quando, cioè, il Comune deliberò per l'appalto in concessione dei servizi di riscossione dei tributi. Appena dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale fu Gianni Fantozzi dai banchi della maggioranza che chiese la revoca dell'appalto insistento perché il Comune trattasse con la società che si era appena giudicata la riscossione del bollo auto regionale e che garantiva la riassunzione di parte degli ex dipendenti di esattorie. La richiesta di Fantozzi fu approvata dal Consiglio Comunale e il dirigente del servizio finanze ha ora annullato il bando d'appalto. Da subito intanto sono partite le trattative tra la ICA Creset e la Giunta da Pollonio per verificare quanto tra l'ex personale di esattorie potrà essere riassunto grazie all'affidamento dei servizi di riscossione che al Comune di Isernia sono praticamente fermi da quando l'azienda dei fratelli Marcucci entrò in concordato. Le indiscrezioni parlano di una decina di unità e la sede sarebbe già stata individuata dalla ICA nei locali dove era ospitata la regione lungo Viale dei Pentri di fronte all'Automobile Club e che si tratti di una buona scelta lo conferma l'adesione al Consorzio arrivata proprio in queste ore anche da parte del Comune di Termoli. Insomma l'odissea degli ex esattorie si sta avviando al capitolo finale e c'è da sperare che aderiscano anche altri Comuni in modo da riassumere la gran parte degli ex dipendenti. Cambiamo ancora argomento sinistra italiana molise con Gigino D'Angelo Sarafere e D'Angelo Minotti pone l'accento sull'emergenza lavoro nella nostra regione e fa il punto della situazione esprimento solidarietà e sostegno ai lavoratori delle aziende in crisi. Patrizia Testa I dati svimez sul Molise dovrebbero confortare ma nella sostanza fanno ancora pugni con una realtà dove il lavoro manca e l'incidenza dell'export in aumento in alcuni comparti non compensa il crollo occupazionale in settori chiave. Una riflessione questa che sinistra italiana molise ha fatto alla luce di un quadro economico in cui vanno aggiunti il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e tagli agli uffici pubblici come per le poste. Gigino D'Angelo Saraferri e Angelo Minotti hanno evidenziato che in una regione che rischia di perdere la corte d'appello e ha già perso il comando dell'arma dei carabinieri la lotta per il lavoro assume un rilievo di estrema delicatezza. Non si può procedere al buio, hanno detto gli esponenti di sinistra italiana senza prestare la giusta attenzione alle vertenze aperte e senza indicare con trasparenza i percorsi da seguire per dare una risposta, ad esempio, ai 71 dipendenti dello zuccherificio per capire la sorte dei lavoratori della GAM per assicurare una prospettiva di reimpiego o di reddito alle centinaia di operai dell'ITR cui è scaduta la mobilità senza tralasciare tante altre imprese dimenticate e chi si è visto ridurre le ore, precarizzare o licenziare in molti settori, dai trasporti all'edilizia D'Angelo, Ferri e Minotti considerano un paradosso poi la precarietà di chi è in servizio ai centri per l'impiego La critica è dura da parte di sinistra italiana che ha evidenziato come non sia un buon segno lasciare gli operai dello zuccherificio a lottare senza essere in grado di sottoscrivere la procedura di mobilità far scadere la cassa integrazione alla GAM continuando ad annaspare con provvedimenti emergenziali non avvertire il dovere di approntare misure di politiche attive del lavoro a cui si è obbligati per legge Sinistra italiana esprime solidarietà e sostegno ai lavoratori delle aziende in crisi e considera in ultimo un grave errore la bocciatura dell'ordine del giorno presentato da Michele Petraroia nel Consiglio regionale sulla GAM perché esso si limitava a richiamare il rispetto delle disposizioni di legge senza il piano di gestione degli esuberi di una società controllata dalla regione validato e condiviso istituzionalmente dalla regione hanno concluso D'Angelo Ferri e Minotti il Ministero del Lavoro non potrà concedere la cassa integrazione per 12 mesi ed i fondi deliberati con la legge ad hoc approvata bastano solo a coprire tre mesi La cronaca adesso con il titolare di un bar di Guglionesi che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga i militari hanno anche proposto all'autorità comunale la sospensione della licenza durante un controllo all'interno del bar i militari hanno trovato un avventore noto come assuntore di stupefacenti il giovane è stato trovato con 60 grammi di hashish forse anche acquistato nel locale nel locale poi adibito al laboratorio per preparare le vivante sul bancone è stato trovato un grosso coltello da cucina con trache di hashish sulla lama è stata anche trovata una busta di plastica con frammenti di droga dal peso di 17 grammi e il bilancino i carabinieri di Larino invece hanno arrestato un uomo di 47 anni di rotello in esecuzione di un ordine di carcerazione della procura di Campobasso l'uomo che è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere e concorso e favoreggiamento con sfruttamento della prostituzione reati commessi dal 2007 al 2009 deve scontare una pena residua di 4 anni e 2 mesi di reclusione l'arrestato adesso è in carcere a Larino e cambiamo ancora argomento resta alta l'attenzione a Campobasso sul tema della sicurezza degli edifici scolastici ieri sera c'è stata una riunione in comuno meglio una riunione della commissione consigliare ai lavori pubblici cui hanno partecipato anche cittadini e i genitori degli alunni della primaria Don Milani e ce ne parla ancora Anna Maria Di Matteo è finita in bagarre la riunione della commissione lavori pubblici del comune di Campobasso convocata per affrontare la spinosa questione delle scuole sicure in particolare della situazione degli alunni della scuola primaria Don Milani di Via Leopardi ai lavori hanno partecipato anche il sindaco Battista e l'assessore Maio ed una nutrita delegazione di genitori lo scopo dell'incontro doveva essere quello di fare chiarezza su come si sta muovendo il comune per affrontare l'emergenza in realtà dalla riunione non è venuto fuori nulla di nuovo l'unico dato da sottolineare è il clima di scontro che ha animato i lavori con Battista che a un certo punto ha abbandonato la commissione infuriato i genitori degli alunni della Don Milani si aspettavano risposte dall'amministrazione risposte su cosa accadrà dal 15 gennaio in poi quando dovrebbero terminare i doppi turni ai quali i bambini sono costretti da quasi un mese su questo punto il sindaco e l'assessore si sono limitati a dire che entro quella data prospetteranno una soluzione scatenando le critiche ai consiglieri dei 5 Stelle della coalizione civica Battista ha anche ricordato come il comune abbia preparato un bando esplorativo per individuare strutture private che possano ospitare gli alunni un bando che ha fatto notare il consigliere dei 5 Stelle Gravina e la fotocopia di quello precedente preparato in occasione dell'emergenza di Via Crispi tensioni alle stelle, genitori impietriti di fronte all'atteggiamento assunto dall'amministrazione sono volate parole grosse tra Battista e alcuni consiglieri di minoranza alla fine il sindaco ha abbandonato i lavori lasciando tutti di stucco intanto resta l'incognita per il futuro scolastico si intende dei bambini della Don Milani costretti a ribaltare la loro vita e cosa ancora più grave non si sa ancora fino a quando e su questo fatto su questa notizia è intervenuto anche il consigliere comunale di opposizione Michele Scasserra si è consumata l'ennesima farsa ha detto messa in atto da un'amministrazione comunale allo sbando e sull'oro di una crisi di nervi non sono state date idee programmi per risolvere il problema il sindaco non ha comunicato la strategia individuata o l'atteso cronoprogramma l'assessore Maio ha detto ancora Scasserra invece di adoperarsi concretamente per trovare soluzioni ha preferito solo polemizzare l'emergenza scolastica è una questione seria da affrontare con lucidità e con decisione in un clima sereno ha aggiunto ancora il consigliere comunale ed ora parliamo dell'associazione di volontariato Afasev che in questi giorni ha portato a termine un progetto innovativo destinato a dare alle persone disabili benefici fisici e relazionali attraverso il contatto con i cavalli e gli asini sentiamo Sergio Di Vincenzo Un'esperienza particolare inconsueta ma di grande efficacia quella che ha avuto per protagonisti gli ospiti del centro socioeducativo Benzi e della comunità alloggio dopo di noi di Isernia attraverso il progetto Serenità hanno infatti avuto un contatto diretto con gli animali in particolare asini e cavalli una terapia innovativa che genera però notevoli benefici sia dal punto di vista psicologico sia fisico il progetto ha impegnato queste persone per quasi un anno dopo una fase preparatoria in aula tutti all'aria aperta per dare libero sfogo alle loro emozioni e alla loro gioia è stato un grande grande incontro una forma di innamoramento tra i nostri ragazzi e gli animali che a loro modo in maniera differente il cavallo e l'asino hanno donato qualcosa ai nostri ragazzi parlando soprattutto direttamente alla sfera emozionale da questa esperienza i ragazzi hanno potuto avere vantaggi su vari fronti dal punto di vista fisico perché il contatto con gli animali di sicuro riduce lo stress offre delle opportunità particolari soprattutto per alcune competenze la destrezza l'equilibrio il movimento la memoria viso spaziale e poi soprattutto dal punto di vista psicologico la socializzazione l'affettività la capacità di riconoscere le proprie e le altrui emozioni il progetto sostenuto dalla regione dal comune di Sernia ha coinvolto tutti gli operatori dell'AFASEV i familiari dei ragazzi i volontari i proprietari di cavalli e l'associazione Ticanea SIEM che ha messo a disposizione i suoi asini l'esperienza è stata veramente bellissima perché ancora una volta diciamo oltre diciamo all'esperienza positiva diciamo che abbiamo avuto diciamo su bambini con alta disabilità con le carrozzine e tutto il resto abbiamo visto per la prima volta diciamo un sorriso a questi bambini diciamo e di poter lavorare con gli asini abbiamo fatto questo esperimento già con gli altri progetti e stiamo vedendo che man mano diciamo gli asini è un punto di riferimento su questa disabilità l'ANAS ricorda che dal 15 novembre fino al prossimo 15 aprile del 2017 sarà in vigore l'obbligo per i veicoli su strada di utilizzare pneumatici da neve o catene a bordo per viaggiare sulle strade maggiormente esposte a rischio precipitazioni ovviamente anche nevose formazione di ghiaccio l'obbligo è segnalato su strada con segnaletica verticale premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la rassegna musicale intitolata Fabrica Armonica è organizzata a termoli sentiamo Fabrizio Chionero un contenitore culturale che conferma l'impegno sul territorio e propone numerose iniziative al via la stagione invernale di Fabrica Armonica rassegna musicale giovanile nata in collaborazione con l'associazione Punto di Valore il primo appuntamento è stato presentato nella sala della parrocchia del Carmelo di Termoli da Don Ulisse Marinucci dai maestri Basso Cannarsa Gianluca Delena e Alessandro Di Palma questo contenitore laboratorio dentro il quale confluiscono tante energie in maniera particolare le energie e le risorse dell'orchestra del coro Punto di Valore è davvero un luogo di scambio e di incontro culturale è una grande opera le cui risorse sono soprattutto l'umano dei nostri ragazzi La rassegna è stata premiata lo scorso luglio anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Siamo stati insigniti della medaglia quale premio di rappresentanza del Capo dello Stato questo ci fa onore ma naturalmente diventa luogo di responsabilità e quindi di programmazione ulteriore di impegni iniziative e progetti Si parte domenica 13 novembre alle 11.30 nella Chiesa del Carmelo con il concerto dell'orchestra Magna Grecia dall'opera alla canzone diretta da Piero Romano e apprezzata a livello internazionale si esibirà per la prima volta a Termoli Verrà a proporre un repertorio classico in maniera particolare legato ad alcuni autori tra cui uno Tosti che è anche nostro quasi conterraneo perché è nato ad Ortone Fabrica Armonica presenterà a breve anche gli appuntamenti del periodo natalizio A metà dicembre l'orchestra e il coro Punto di Valore suoneranno in ospedale un concerto di Natale offerto in maniera particolare per gli ammalati L'artista di Campobasso Antonio Corbe spona a Stoccarda partecipando ad una collettiva di arte contemporanea italiana nella City Hall è stata inaugurata il 9 novembre e potrà essere visitata fino al 16 dicembre mostra organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura della città tedesca molto lusinghiere le critiche le parole verso i lavori di Corbe in particolare del critico Paolo Levi che ne ha lodato il talento la sperimentazione cromatica con cui comunica la sua percezione del mondo si intitola invece Tempo imperfetto il libro scritto da Massimo Dorzi è presentato al caffè letterario Livre di Campobasso un libro ispirato ad una storia vera Tonino Danese Massimo Dorzi è un regista di film e documentari che ha voluto raccontare ma stavolta in un libro una storia ispirata a fatti realmente accaduti fatti di cronaca la vicenda di Erika e Omar Tempo imperfetto l'adolescenza e la ricerca del sé tra realtà e fantasia il titolo del romanzo un noir strutturato sulle tappe dell'inchiesta della magistratura presentato anche a Campobasso al caffè letterario Livre ho avuto la possibilità anche grazie al magistrato che ha indagato per anni su questo caso e che per la prima volta ha aperto i fascicoli per poter fare un'indagine ulteriore perché non l'aveva mai permesso a nessuno nonostante televisioni di tutto il mondo perché questo è un caso che ha fatto il giro del mondo per l'efferatezza per la giovanità dei protagonisti quindi ho avuto la possibilità di indagare io a distanza di dieci anni quindi i fatti risalgono al 2001 ma dopo dieci anni ho sentito la necessità l'esigenza l'urgenza di ritornare su quel caso per indagare che cosa per indagare l'adolescenza sì attraverso un fatto un caso estremo come quello volevo entrare in quella casa volevo cercare di capire come una ragazza di 15 anni in un contesto familiare idilliaco in una provincia perfetta in una situazione apparentemente ideale potesse arrivare a compiere un fatto di questo genere perché lei ha scelto la forma del romanzo del noir io vengo dal cinema vengo dalla sceneggiatura avevo appena finito di scrivere una sceneggiatura per un grosso produttore e quasi non mi sono quasi neanche reso conto mi è riemerso questo caso è proprio il caso di dire che è avvenuto tutto in modo come dire non cosciente molto irrazionale questa storia è arrivata un po' così ho ripensato a questo caso e mentre lo ripensavo e lo rielaboravo sono finito dentro ma la sensazione che ho avuto è che l'avrei dovuto affrontare attraverso gli strumenti della letteratura e non della sceneggiatura e non del cinema e una cosa a cui tengo particolarmente è il fatto che un magistrato che aveva indagato su questo caso che aveva portato ai tre gradi di giudizio questo caso come è noto a tutti cercasse nella letteratura e nel cinema risposte che evidentemente almeno risposte interne emotive personali che neanche il caso nei suoi tre gradi di giudizio erano riusciti a fugare ed è tutto per questa edizione della notte del nostro telegiornale che andrà in replica come di consueto fino al Tg del mattino con la rassegna stampa di domani alle 8.30 grazie a voi come sempre per aver scelto la nostra informazione buonanotte grazie a tutti grazie a tutti